bike show tv è il sito ufficiale del primo canale del grande ciclismo scrivi a info chiocciola bike show tv.com vorrei ringraziare e dedicare un applauso a zilberto simoni che è una cosa tremendamente grande ragazzi ve lo giuro a davide retellini a elia liviani a filippo baggio che è diventato uno di noi ad una persona un po più speciale per me perché ha vinto il campionato del mondo a quattro chilometri da dove io stavo perdendo la vita in svizzera a tatiana budetto gentilmente e gli dediciamo un applauso speciale qual è il messaggio che dice diego a tutti? il messaggio che dice diego a tutti è che tu forse l'avrai anche visto che quando ti svegli al mattino e stai uscendo per andare al lavoro per portare a scuola il figlio queste cose di voltarsi indietro basta un istante e guardare gli occhi della persona che c'è alla porta no? che sia tua moglie tuo figlio la tua mamma e poi non serve più niente perché quando tu riparti per andare a fare la tua giornata ti scenderà una lacrima secondo me capirai di aver già tutto hai la vita e la vita è meravigliosa questo è l'unico messaggio veramente è più bello parlavamo di unico uno un'iniziativa vera importante dove ci siete voi campioni che date il vostro contributo sì una serata dove ci sono grandissimi personaggi grandi campioni grande persone di umiltà e di solidarietà siamo qui tutti riuniti per un unico grande scopo per portare avanti il cuore questo simbolo che ho conosciuto grazie a diego due anni fa e che mi ha trasmesso questa grande passione e questo grande sforzo per questo obiettivo grande siamo qui con Giberto Simoni Givo questa sera è una serata speciale siamo qui per Diego per Diego Murari per unico uno per unico uno e per tutti i ragazzi che credono in questo progetto nella solidarietà nelle persone che in realtà insomma hanno avuto meno fortuna e così cerchiamo un po' di così dare un po' di energia a questa a questa associazione e soprattutto Diego ci dà tanta energia a noi perciò è un binomio che bisogna continuare a tenere Davide, siamo qui una serata di un amico una serata speciale unico uno sì è una serata per Diego per unico uno è una fondazione, è un progetto che appoggio già da qualche anno e poi Diego è un carissimo amico è proprio entrato nel cuore e quindi cerco di di essere vicino a lui e come tutte quelle persone che li vogliono bene e che stanno facendo qualcosa per lui siamo qui con Elia Viviani dopo una grandissima stagione impegnativa di gare questa sera siamo qui, sei qui impegnato in un'iniziativa molto bella quella di unico uno sì sicuramente io ho conosciuto Diego grazie a Tatiana quindi in una giornata in pista che lui è venuto a trovare a Tatiana me l'ha presentato quindi ho conosciuto lui e la sua forza e da lì siamo sempre rimasti in contatto è da ammirare per la forza che ci mette quindi per la tenacia a non mollare mai quindi prendiamo esempio soprattutto da lui anche per quanto riguarda il nostro sport e qui stasera siamo qui a festeggiarlo giusto così dopo una stagione lunga non pesano di certo queste feste siamo qui con Miocio, il solito direttore sportivo del mondo del professionismo siamo qui con tanti campioni Elia Viviani, Giberto Simoni, Rebellin, Bertolini, Tatiana Guderzo e un altro campione Diego Murari con unico uno, iniziativa benefica insomma adesso la stagione è finita è bello anche ritrovarci così, cercare di aiutare anche le altre persone qui siamo rappresentati tantissimi sport, è una cosa un po' inconsueta però la sensibilità che hanno gli sportivi su queste cose credo vada oltre insomma anche a tutte quante diciamo le sfide che stiamo facendo nello sport il capitano tutti i giorni ci insegna cos'è l'importanza della vita ma è veramente tante volte quando mi manda i messaggi quasi ogni giorno mi arrivano i suoi messaggi e mi rendo conto che la vita è un'altra insomma non è solo il mondo del lavoro, la bicicletta o qualcos'altro ci sono delle persone che combattono per la vita e veramente bisogna darne atto perché lui ha una forza di vita incredibile ma soprattutto ti incentiva a capire certe situazioni molto difficili serata unico uno? sì, è una bella serata in uno di unico uno di Diego San Conten di essere qui a questa bella manifestazione con molti personaggi dell'ambiente ciclistico e non con Davide, con Tatiana e con Ivediani sicuramente rendiamo onore alla bella manifestazione Alessandro Guerciotti questa sera Alessandro siamo qui in un'occasione speciale quella di unico uno di Diego Murari sì sicuramente siamo in una bellissima serata a festeggiare sempre il nostro amico Diego Murari unico uno noi come Guerciotti collaboriamo siamo vicini a Diego da molti anni, quasi tre abbiamo sposato il suo progetto lo abbiamo seguito in questi anni dove lui si è affacciato al ciclismo e per noi è sempre un piacere supportarlo ed essere presenti queste serate Bikeshow TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes Bikeshow TV corre anche sul digitale con l'applicazione per 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 l